Bella, indipendente e pugliese, con la musica nel sangue. Si chiama Just Play Music ed è un'etichetta discografica. Una nuova realtà nel panorama dello spettacolo barese, ma non solo, che ha presentato i suoi gioielli nel corso di una serata al Demodè di Modugno. Speranze come i Recchiabilli, insolito quintetto, con trabandiere del sound degli anni 50 ai giorni nostri. Quando abbiamo fondato il gruppo, non sapevamo che nome dare a questo gruppo, c'erano un po' di idee, e ce lo siamo trovato cucito addosso questo nome, nel senso che hanno cominciato a chiamarci così e quindi abbiamo lasciato questo nome Recchiabilli. E quale sia il filo conduttore della Just Play Music, ce lo spiega una delle sue vittime, il cantautore Paolo Gatto. La filosofia della Just Play Music è suona e basta, non pensare a tutto il resto. Ecco, mettiti lì e suona, tu devi pensare soltanto a suonare, a tutto il resto ci pensa lei, ci pensa la Just Play Music. E poi il coraggio di investire su talenti come Guy Portoghese, detto lo specialista. Sul perché di tale scelta, Guy non ha dubbi. È perché è un incosciente il produttore. Ha deciso di investire dei soldi su di noi. Come dagli torso del resto, lui mi ha visto anche in costume da bagno. Grazie. Grazie. Grazie.